Ciao! Stasera c'è la cena con Massimo? Quanto gli piace a tu, fratello. Ci porta sempre nello stesso posto, ma da dieci anni. Vogliamo parlare della signora? Chissà come sarà vestito. Scusatemi. Avete già iniziato? Io me ne vado. Dai, aspetta, vengo con te. Oh, ma che fai? Com'è andata ieri sera? Perché? Vuoi dirmi qualcosa? E' la prima volta che mio padre mi risolve qualche piccia. Ma tu come mi vedi? Pensi che sia un pezzo di merda? Vera, questa è la cosa importante che mi dovevi dire. Tua figlia trascena due figli in questa situazione e tutta la vita che è così. Eravate voi? No. Non eravamo noi. Ma come fai a credere a tuo fratello e non a tuo figlio? Io lo conosco mio figlio. Tu lo conosci? Lo sceneggiatore e regista di Mission Impossible 5, Christopher McQuarrie, ha confermato che Ving Rames tornerà nel ruolo di Luther Stickle nel sequel del film. Rames quindi si unisce al cast che vede già presenti Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Alec Baldwin e Rebecca Ferguson. Non ci sono ancora dettagli sulla sceneggiatura ma come sempre vi terremo aggiornati. La produzione della pellicola inizierà a fine mese. E per oggi è tutto. Iscrivetevi al nostro canale per restare sempre aggiornati sulle ultime uscite al cinema. Noi ci vediamo al prossimo video.